Giovedì 3 novembre 2022, buongiorno dalla redazione della Nuova Riviera, la rassegna stampa della giornata di oggi dei quotidiani cartacei che parlano del nostro territorio in redazione. Emilio Lattanzi, partiamo con il Corriere Adriatico, crisi, la Rengo si mobilita, la prima pagina apre proprio con le misure che il Comune di Ascoli ha presentato ieri per fronteggiare la crisi economica, quindi botta e risposta tra Giacometti e Menso, si parla di Covid, si parla in particolar modo di Novax, mi riprendo di Novax, che errore, due opinioni nettamente discordanti che si trovano all'interno nelle prime due pagine del quotidiano anconetano, quindi nelle finestre sottostanti i richiami a quello che c'è all'interno delle pagine, la CIP è alle strette se non pioverà altri pozzi chiusi, dunque la siccità che continua a creare problemi, l'assenza di pioggia che sta provocando diversi disagi alle famiglie del territorio, anche in Riviera. Molte non pagate, si parla degli chalet chiusi ai disabili che non trovano modo, spesso non trovano modo di poter godere della spiaggia come tutti gli altri, l'ira di Torquati, punire gli chalet. Pige l'ambiente fa i nuovi conti, i sindaci tremano, le spese sono elevate. Lo vedremo all'interno, quindi la tragedia che si è verificata sulla vallata, la tragedia a San Silvestro dove un uomo di 83 anni è rimasto incastrato in un tombino ed è morto. Ha negato, purtroppo è successo nel pomeriggio di ieri. Andiamo ad Ascoli, sempre con il Corriere Adriatico, reddito di Civiltà Alvia, stage per 17 disoccupati. L'Arengo ha presentato il piano di contrasto alla povertà e alla crisi che si sta facendo sempre più dilagante per molte famiglie. Lavoreranno per sei mesi in azienda e continueranno a percepire i 400 euro stanziati dall'Arengo, quindi sopra nella parte più alta della pagina una tabella riepilogativa con tutte le misure presentate ieri. Affitti, mutui e maternità si resta sempre sullo stesso argomento. C'è un bonus da 800 euro, sostegni economici del Comune a chi si trova in gravi difficoltà. Quindi offida che nell'ultimo Consiglio Comunale ha approvato il bilancio spiegato dal sindaco Luigi Massa, caro Bollette, fondo ad hoc di 15.000 euro per le famiglie. Ascoli, la CIP fa la danza della pioggia, dunque si torna a parlare di siccità, altri serbatoi a rischio, chiusura coinvolti nello stop all'erogazione notturna, anche i centri più grandi, Ascoli, San Benedetto e Fermo. Molte famiglie del nostro territorio purtroppo lo sanno e si trovano a fare i conti con l'acqua che viene staccata alle 22 e i rubinetti restano a secco per tutta la notte. Vivaisti con il fiato sospeso, il problema l'emergenza siccità non tocca solo le famiglie ma tocca anche categorie che, come è facile immaginare, come i vivaisti, lavorano proprio con l'acqua. Il Grotta Marese Balestra, nell'intervista di Regina Pezzoni, afferma il livello si sta abbassando, le falde vanno rimpinguate. La tragedia che si è verificata ieri in Vallata, resta incastrato in un tombino, muore annegato nel pozzetto, shock incontrata San Silvestro, vittima un 83enne, si chiamava Delio Capriotti. Quindi il boato del 1931, il terremoto di magnitudo 3, che si è verificata con epicentro Rocca-Fluvione, non si segnalano fortunatamente danni. Andiamo a San Benedetto, con i costi dello smaltimento dei rifiuti costano tre volte di più e i comuni non hanno i soldi per pagarla. Quindi nell'articolo di Alessandra Clementi, tutti i dettagli sul Salasso, al quale i comuni sembrano destinati ad andare incontro. Nuovo ospedale a Brancadoro, l'area scelta fa discutere. Orgoglio civico è per il sì. Abbiamo pubblicato ieri le dichiarazioni di Benito Rossi in merito. Per Pasquali è un grave errore, dunque non c'è proprio una unione di intenti in tal senso, ma questo lo sapevamo. Andiamo quindi sull'argomento delle spiagge chiuse ai portatori di handicap. Chalet con barriere, ritirategli le licenze. L'ira dell'ex assessore Nazareno Torquati, che loda l'operato della precedente amministrazione. Piunti e Carboni, vale a dire l'ex sindaco e l'ex assessore al sociale, fecero bene. Aria verde attesa da 30 anni, siamo a Porto d'Ascoli, nella zona di via 4 novembre. È arrivato uno stricione polemico contro gli amministratori. Svegliatevi. Andiamo avanti, sempre restando nella zona della riviera delle Palme. Un passo avanti per il lungomare, lo abbiamo scritto ieri. Procedono spediti gli interventi di riqualificazione del lungomare. È stato assegnato anche il terzo stralcio dei lavori, che è stato aggiudicato da una ditta abruzzese. Finiranno questi lavori prima dell'estate 2023. Dunque, la prossima stagione turistica dovrebbe vedere il lungomare di Grottamare, completato. In base al progetto che è stato presentato dall'amministrazione alla cittadinanza, sempre a Grottamare, fossi extraurbani, task force in azione sulla Valtesino. Manutenzione e sicurezza individuate nuove zone di intervento per la polizia. Andiamo sulle pagine di Ascoli, adesso dell'arresto del Carlino. Botte tra ragazzini, niente stangata. Si parla di quanto accaduto durante l'incontro tra Porto d'Ascoli e Atletico Ascoli al Ciarrocchi. La rissa tra 15 anni in tre squalificati dopo la rissa in campo. Il sindaco di San Benedetto, al centro della prima pagina, bene la crescita ma possiamo fare meglio, si parla di turismo perché sono stati pubblicati dei dati che premiano tutta la costa da San Benedetto a Cupra, passando naturalmente per Grottamare. Quindi una vicenda di cronaca giudiziaria costretta a visitare pediatra. La denuncia, due donne, andiamo quindi dentro l'edizione ascolana del quotidiano bolognese. San Benedetto, regina del turismo, per arrivi è prima nelle Marche, bene anche Grottamare che entra nelle prime dieci. E Ascoli che cresce rispetto all'anno scorso. Spazzafumo non si accontenta, possiamo fare ancora meglio. Pier Gallini afferma soddisfatto, abbiamo raddoppiato e di grande soddisfazione. Il primo cittadino di Cupra, Alessio Pier Simoni, risse in campo, tre baby calciatori squalificati, botte nel torneo allievi tra Atletico Ascoli e Porto d'Ascoli, il giudice non infierisce cinque giornate a chi ha commesso il primo fallo. Dunque poi una vicenda che riguarda, si parla della lettera scritta, del comunicato inviato dall'Atletico Ascoli allo stesso resto del Carlino dopo la notizia diffusa nella giornata di ieri dalla società, una lettera che non deve essere tenera perché dalla società ci è stato inviato, spiega il quotidiano bolognese, un comunicato che inizia insultando il nostro cronista. E l'articolo pubblicato martedì, ecco cosa hanno scritto, naturalmente questo è il sottotitolo fatto dalla redazione del Carlino. Cronaca giudiziaria, la pediatra costretta a visitare due donne rinviate a giudizio. Il racconto in aula della dottoressa, stavo per chiudere l'ambulatorio e ho spiegato che non potevo riceverle. Con le minacce mi hanno impedito di andare via, in tempi di Covid erano senza mascherina. È accaduto ad Ascoli nel 2021. Le donne sono due nigeriane rispettivamente di 30 e 24 anni. Le accuse parlano di violenza privata nei confronti della pediatra. Ascolana, sempre di giudiziaria, 19 persone a processo per il traffico di prostitute. Si tratta di nigeriani. La tragedia invallata annega nel suo pozzetto, parliamo dell'uomo di 83 anni, Delio Capriotti, che purtroppo ieri non ce l'ha fatta e una tragica fatalità lo ha visto morire. L'omaggio ai caduti al cimitero, l'ex presidente degli Arpini di Ascoli, Iachini, importanti medaglie. La polemica è sul fatto che non c'è stata nessuna visita al famedio. Cultura, restiamo sul Carlino di Ascoli. Ecco la nuova stagione della lirica. Il 19 novembre, il ventidio basso, si parte con Macbeth. Due giorni prima c'è lo spettacolo per i ragazzi. Andiamo con le pagine del resto del Carlino. Sul terremoto che si è verificato ieri alle 19.31 a Rocca Fluvione, ma in litudo 3 avvertito forte anche ad Ascoli. C'è chi è sceso in strada. Fortunatamente non si sono registrati i danni. Un'altra tragedia a Castel di Lama, una donna di 53 anni, Maria Assunta Simonetti, purtroppo è scomparsa. A poche ore di distanza da un'altra giovane mamma, la 41enne Elena Augello, di cui ieri pomeriggio si sono celebrati i funerali a San Benedetto. Proprio a San Benedetto andiamo per parlare di altri argomenti. L'area Brancadoro va di nuovo all'asta, è la quinta volta e quindi si parla di questa idea del nuovo ospedale di San Benedetto in quell'area con orgoglio civico che dice sarebbe perfetta per il nuovo ospedale, per raggiungibilità e sicurezza. Quindi il comitato, fermiamo il consumo di suolo, che dice no ai parcheggi sull'albola. Andiamo avanti sempre con San Benedetto, con la visita del Vescovo alla compagnia dei carabinieri e una visita incentrata anche sulla lotta alle truffe, agli anziani, che vedrà i militari nelle parrocchie per parlare con i fedeli e metterli in guardia proprio contro queste insidie. Andiamo a parlare di sport, torniamo tra le pagine del Corriere Adriatico. Si parla di Ascoli che ritrova la spinta Donati, naturalmente al centro c'è il bel momento della formazione bianconera. Il terzino destro a Brescia vogliamo allungare la striscia positiva, sarà una gara difficile e servirà la massima attenzione fino all'ultimo. Quindi sempre di Ascoli, si parla anche nella seconda pagina dell'inserto sportivo, tra le rondinelle e i bianconeri. Quanta storia della cadetteria, la squadra con record di presenze in B contro quella che ha il primato di partecipazioni. consecutive. Andiamo quindi alla San Benedettese, oggi parla Cozzella, c'è infatti la conferenza stampa del direttore sportivo, contestato aspramente dai tifosi. La sensazione però è che non rassegnerà le dimissioni, ma farà il punto della situazione. La gara quindi del Porto d'Ascoli in Coppa Italia, che ha visto gli Orange soccombere per 2-1 alla Riviera delle Palme, Ciampelli. Peccato aver preso due gol così. Torniamo tra le pagine del Carlino, sempre per quanto riguarda lo sport. Ascoli, Bucchi ritrova anche Donati pronto per Brescia. Sarà una gara tosta, il terzino ha recuperato. Non pensavo di trovare tutto questo spazio, sono concentrato a dare il massimo. I biglietti in vendita per la sfida a Rigamonti e la sfida di sabato sarà diretta dall'arbitro Gualtieri, che ha quattro precedenti con i bianconeri. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, c'è ballottaggio in difesa tra Simic e Bellucci. La Fermana in Serie C, Protti che analizza il K.O. Collimonese, questo è il nostro percorso di crescita e predica calma. Abbiamo sbagliato l'approccio, ma non facciamoci la testa. Andiamo a parlare di San Benedettese. Il titolo si punta sul transport finalmente arrivato per Bekaert dopo mesi di attesa il 18enne belga classe 2004. Può scendere in campo un'arma in più per Mr. Prosperi. Poi nell'articolo di Pierluigi Capriotti si scende nel dettaglio e si parla anche della conferenza stampa che oggi interrà Vittorio Cozzella. Non dovrebbero esserci, scrive il giornalista del Carlino. Grosse sorprese perché Cozzella vuole restare a San Benedetto per rimediare agli errori commessi in fase di costruzione della Rosa. Quindi la sconfitta in Coppa Italia del Porto d'Ascoli, Clerici illude, ma il Pineto ribalta la formazione di Mr. Ciampelli. Succede tutto nella ripresa con i rivieraschi che vanno in vantaggio e gli uomini di Amaolo che poi piazzano l'1-2. Per concludere andiamo a guardare la prima pagina del nostro sito www.lanuovariviera.it. Si apre con la tragedia che si è verificata in vallata nel pomeriggio di ieri con l'anziano di 83 anni che è morto dopo essere rimasto incastrato nel pozzetto. È morto annegato, la testa è rimasta bloccata nel pozzetto e l'acqua gli ha impedito di respirare. Quindi la scossa di terremoto, magnitudo 3.0, epicentro Rocca-Fluvione, che si è verificata ieri nel tardo pomeriggio alle 19.31. Non lo ribadiamo, non si sono verificati danni. Centinaia di persone, per l'addio a Elena Augello, la giovane mamma di 41 anni, era un uragano, ha detto il parroco emerito della chiesa di San Filippo Neri, Don Gabriele Paoloni. Una donna schietta, trasparente e vera, la toccante cerimonia. Per quanto riguarda lo sport, la sconfitta in Coppa Italia del Porto d'Ascoli, il Pineto vince 2-1, quindi il transfer di Becaert. Per quanto riguarda la San Benedettese, oggi seguiremo la conferenza stampa del direttore sportivo Vittorio Cozzella e ve ne daremo conto. Per oggi è tutto per questa rassegna stampa, continuate a seguirci sui nostri canali social su www.lanuovarivera.it. Grazie e buona giornata.